Pressione e un aumento per l'avanzare verso Levante dell'anticiclone dell'Azzorre, che nei prossimi giorni tenderà a insistere su gran parte del Mediterraneo, determinando prevalenti condizioni di stabilità. In Toscana domenica 29 novembre, poco nuvoloso o temporaneamente velato in mattinata, salvo addensamenti di tipo basso in prossimità della costa e possibile formazione di nebbia nei fondovalli dell'interno. Parzialmente nuvoloso per nubi basse nel pomeriggio, prevalenza di sole in montagna. Venti deboli in prevalenza occidentali, mari poco mossi fino a mossi a nord dell'erba. Temperature in locale lieve aumento. Sul territorio provinciale, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 2, massima 13 gradi. In Versiglia e sul litorale, minima 4, massima 16. In Garfagnana e zone montane, minima 0, massima 14 gradi. Lunedì, cielo da nuvoloso a coperto, ma con scarsa probabilità di pioggia.